Tumble guys nab vs pro, questi qua sono i nabbi ragazzi, vabbè roba veramente tranquilla, fattibilissima Vediamo che anche su IC8s fanno un trick che ormai sanno fare tutti, ma soprattutto sbagliano questo trick Ma come fate? Ma adesso vediamo le leggende, ecco qua, oh mio dio ma questa roba qua io non la saprei mai fare onestamente Questo non pensavo nemmeno fosse possibile Ovviamente il trick su IC8s si fa solo in questo modo e infine si fa questo su super slide Mi raccomando iscriviti al canale se sei un pro